Questa è la mia tecnica! Questa è la mia tecnica! Questa è la mia tecnica! Un saluto alla diretta! Sandri Oriente, Torroni e Lottito a concludere la fase a Gironi, poi inizierà la fase a tabellone e l'iniezione diretta. Quarti di finale in 7.21 e poi sui finali in 2 su 3.15. Finisce tutto stasera! E' un po' freddo! Finisce tutto stasera! Finisce tutto stasera! Finisce tutto stasera! Finisce tutto stasera! Seguire il campo numero 2, Sandri Oriente per Roi Lottito, con l'ultima partita del girone. Non c'è problema, ma non c'è problema, ma non c'è problema, ma ci mancheremo, Franco, ma è tranquillo. Ragazzi, fare i dispari. A seguire Zavatta Camatti, Ferrari Troglio, l'ultima partita del girone. A seguire Zavatta Camatti, Ferrari Troglio, l'ultima partita del girone. A seguire Zavatta Camatti, Ferrari Troglio, l'ultima partita del girone. A seguire Zavatta Camatti, Ferrari Troglio, l'ultima partita del girone. Ricordatevi di lui, lasciate perdere, perché guarda, è una brutta serata. Penso che inizierò a giocare a chioppo al lavoro anche se sono basso. A seguire Zavatta Camatti, Ferrari Troglio, l'ultima partita del girone. A seguire Zavatta Camatti, Ferrari Troglio, l'ultima partita del girone. enzi меня! Rappendo là, scusa! Grazie a tutti.